oggi siamo nella ridente località di piovesi torinese e ti accompagno a vedere una bella villa indipendente sui quattro lati di recente costruzione con ampio spazio esterno vieni con me un'altra parte di recente costruzione con ampio spazio è un'altra parte di recente costruzione un'altra parte di recente costruzione con ampio spazio esterno vieni con me un'altra parte di recente costruzione con ampio spazio esterno vieni con me a 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